Oggi iniziamo la mattinata di interventi con Enrico Sorcinelli. Enrico è un grande entusiasta dell'open source, esperto di WordPress, software engineer in una grande internet company italiana, Italia Online. E oggi ci presenta in un talk molto intenso di 30 minuti, non so cosa sto sbagliando, 10 cose che dovremmo sapere se lavoriamo con WordPress o che se sappiamo già ci fa bene ripassare. Quindi do la parola ad Enrico e buon WordCamp. Allora, buongiorno a tutti, sono onorato della presentazione della nostra HeroPress Alice, un membro attivissimo della community Poligloss italiana e mondiale. Dunque, come ho detto, vi parlerò di 10 piccole cose che sicuramente sapete, ma anche per me ricordare non fa a me male. Partiamo subito. Guida intergalattica alla scelta del plugin che può fare al caso vostro. Uno dei punti di forza di WordPress è sicuramente l'incredibile flessibilità e la possibilità di estenderlo con tantissime estensioni che possono trasformare WordPress in sistemi più complessi, un sito di e-commerce, un social network, una ERP, eccetera. Tuttavia, ci sono tantissimi plugin e temi. Considerando quelli free, premium, premium, eccetera, abbiamo quasi 90.000 estensioni. Quindi, diciamo, è anche difficile a volte orientarsi sulla scelta del migliore. In più, una così tanta abbondanza di estensioni potrebbe anche farci venire l'appetito via via che si mangia e quindi potremmo anche installare più di quello che ci serve. Veniamo, adesso vi dirò cinque piccoli punti che vi possono aiutare alla scelta. Il primo è sicuramente di analizzare quello che realmente vi serve. Quindi chiudete il computer, prendete carta e penna, scrivete su un foglio quello che realmente vi serve e così non vi distrarete quando vedete un plugin che magari ha quello che vi serve, ma anche tante cose, magari per pigrizia installate quel plugin che però vi portate dentro tanto codice che magari non userete mai. E magari se vi serve solo una piccola cosa, non siate pigri, magari questo vi può anche invogliare a svilupparvela voi. Se è veramente una piccolissima cosa, prendete il plugin, guardate il codice, come è fatto, e questo vi dà anche modo anche di entrare maggiormente nella conoscenza del core di WordPress. La seconda cosa, sicuramente lo conoscerete, nella pagina del plugin, un'occhiata agli analytics. Quindi potrete vedere la popolarità del plugin, quante installazioni attive ha, la reputazione, commenti, votazioni, eccetera. L'update, quindi la data dell'ultimo update, e soprattutto anche la compatibilità del plugin con la vostra versione di WordPress. In più, ogni pagina del plugin ha anche il forum di supporto, dove voi potrete vedere anche quanto è responsivo, cioè quanto è abbastanza veloce la risposta dell'autore stesso ai bug, quanti bug aperti ci sono, e anche vedere se c'è un'opportuna documentazione del plugin. Il secondo punto è la sicurezza, ovviamente, questo è scontato. Diciamo, una statistica dice che quasi il 20% degli attacchi a WordPress e delle vulnerabilità sono dovute a, diciamo, a plugin che noi magari abbiamo installato senza aver prima verificato, quantomeno un ambiente di test, questo plugin, prima di utilizzarlo nei nostri sistemi di produzione. Aspetti tecnici, sicuramente una volta che abbiamo provato il plugin, ci sono altri strumenti come il query monitor, il P3, che ci danno delle metriche per cui ci possono dire il plugin che abbiamo scelto, se fa troppe query in più, se come, diciamo, utilizza le risorse del nostro sistema. Un'occhiata anche al codice, per chi è in grado di, o ha voglia e tempo di dare un'occhiata al codice, e soprattutto è importante, secondo me, vedere se il plugin che abbiamo scelto ha associato una repository sul quale, diciamo, verte una serie di sviluppatori, quindi vedere se questo plugin è su GitHub, quanti sviluppatori ci sono dietro, la loro reputazione, se hanno fatto altri plugin, quanti fork ci sono stati, questo ci dà un'idea anche della community che gira intorno e anche ci dà una stima di quanto questo plugin in futuro verrà supportato, perché noi ci prendiamo un plugin, lo usiamo come, diciamo, elemento fondamentale del nostro sito e vorremmo attendere un... In più, ovviamente, i plugin si dividono in tre tipologie, free, freemium e premium, ognuna con i suoi pro e contro, adesso qui ho lasciato una tabella di più o meno di comparazione con alcuni aspetti, ovviamente il free non costa nulla, ci sono plugin free molto, molto buoni, probabilmente potrebbero non avere tutto quello che ci serve e potrebbe non esserci il supporto che ci offre un plugin al pagamento. I freemium sono quelli, diciamo, che non richiedono un investimento, quindi li possiamo provare e se vogliamo acquistiamo la... per la, diciamo, la versione a pagamento per le funzionalità. I premium non sono, diciamo, per chi non vuole investire, non sono forse più adatti, sicuramente in genere danno più supporto e hanno la possibilità di essere customizzati perché noi paghiamo direttamente per la customizzazione. Andiamo al secondo punto, questo è molto veloce, questo è un servizio che ci consente di esporre il nostro server locale su internet. A volte ci serve, nello sviluppo, dover far vedere il nostro sito locale sul nostro computer, in internet, al cliente o comunque esporlo perché nello sviluppo abbiamo bisogno di avere con API di servizi esterni, abbiamo bisogno che sia raggiungibile tramite delle callback. Bene, con questo semplice sistema, che non richiede installazioni, registrazione eccetera, con il classico tunnel di port forwarding dell'SSH, riusciamo a esporre il nostro sito per un limitato periodo di tempo a internet. Questo servizio ci assegna un sottodominio che è accessibile poi a tutti e fa in modo di rendere visibile il nostro WordPress locale su internet. Andiamo al terzo punto. Sembra scontato dirlo, però WordPress non ha un sistema di autenticazione a due fattori, cioè ci lo chiamo a WordPress nella parte dell'amministrazione solamente con la password. La sola password ovviamente è una protezione abbastanza limitata, quindi quello che in genere si fa per aumentare la sicurezza è aggiungere un secondo fattore di protezione. In genere può essere un qualcosa che noi abbiamo, quindi un codice temporaneo che inseriamo o a volte anche l'impronta digitale, il riconoscimento della retina eccetera. Nel caso di WordPress ci sono dei plugin che molto velocemente generano un QR, e noi lo fotografiamo col cellulare tramite un'applicazione, se ne sono tante, io in genere uso Google Authenticator, ci dà questo codice temporaneo e quando noi ci lo chiamo a WordPress, oltre alla usina del password, WordPress ci chiederà questo codice temporaneo che noi dovremmo inserire per loggarci. I plugin che io in genere uso, io in genere uso il primo, però ce ne sono diversi, questi sono forse quelli più utilizzati, consentono appunto di inserire questo secondo fattore di autenticazione. Alcuni hanno altre funzionalità, mandano il codice anche via mail, rendono obbligatoria la two-factor ad utenti dopo un periodo di tempo, diciamo dopo 15 giorni, e comunque vi consiglio vivamente, se non lo avete, di aggiungere la two-factor nel vostro sito WordPress tramite uno di questi plugin. Questo qui è un punto essenzialmente per sviluppatori. Query Monitor, non c'è bisogno di dirlo, è di fatto uno degli elementi standard per lo sviluppo di plugin. Ci fa dimenticare le vie brutte e cattive con cui noi magari debaghiamo le nostre applicazioni, quindi stampa video di variabile, lo stampa sull'aerolog con Query Monitor, abbiamo la possibilità di avere direttamente sul nostro browser un pannellino, un po' come la console, diciamo, del nostro browser, che ci dà direttamente tutta una serie di informazioni molto molto importanti, come le query al database che fanno tutti i plugin, raggruppabili per componente, raggruppabili per plugin, ci dà tutta la stampa degli error log e ce l'abbiamo direttamente nel nostro browser. Ci dà anche altre informazioni, quante chiamate HTTP il nostro software fa verso l'esterno, alcune informazioni anche delle chiamate Ajax che vengono fatte dal plugin, eccetera. non sto certo a parlare di Query Monitor perché ho avuto la fortuna di andare, l'opportunità di andare al WordCamp Catania, un altro membro della community ha fatto un ottimo talk su Query Monitor che vi invito poi ad andare a vedere, molto divertente tra l'altro. Daniele Scascia Fratte. Bene, se siete qui sapete di cosa vi parlo. sicuramente i WordCamp sono il metodo più diretto per entrare in contatto con la community e la conferenza è il momento clou. Non di meno però il Contributor Day, adesso io non so quanti di voi ci sono stati ieri, qualcuno ovviamente ne vedo, che ho visto anche ieri. È un incredibile momento di entrare in contatto con altri utenti. È un momento molto più informale, ci si siede a dei tavoli di lavoro, vengono fatti dei mini progetti o dei mini lavori, abbiamo l'opportunità di scambiare idee, di incontrare esperti Wordpress, addirittura anche di entrare in contatto anche con chi Wordpress lavora attivamente nella community. Qui tra noi c'è, non lo so se lo vedo, anche dei core committer, cioè quell'elite di quelle 30-40 persone che hanno direttamente accesso e approvano le patch al codice. Quindi è una grandissima opportunità di entrare in contatto con la community. Vabbè, c'è la mappa dei WordCamp sul sito WordCamp Central. Se non riuscite ad andare a un WordCamp, perché magari dovete trasferirvi, passare una notte fuori, eccetera, ci sono limitato, perché sono dei piccoli gruppi localizzati in tutta Italia, in tutto il mondo, ma anche in Italia, dove organizzano dei piccoli eventi, in genere ogni mese, mensilmente. Questi eventi hanno diversi formati, possono essere dei talk, oppure dei workshop. cercate quello più vicino a voi e vi consiglio di andarci. Se non ne trovate, pensate all'opportunità di crearne uno nella vostra città. Magari, se siete in due è meglio, perché comunque è bene sempre essere in due per organizzare queste meetup. c'è il supporto. Tutti sappiamo che ci sono i forum, c'è documentazione, ogni plugin e ogni tema ha un suo supporto, quindi riusciamo a entrare anche con questi forum, in contatto con la community. E poi infine c'è Slack, che è il canale ufficiale di WordCamp, di WordCamp, per comunicare con tutti gli utenti. Anche la comunità italiana ha il suo canale e qui in questo indirizzo avete tutte le istruzioni per poter entrare su Slack. Non vi parlerò di Gutenberg, ma vi parlerò di una piccola cosa su cui voglio rivolgere l'attenzione. La ricerca di WordCamp è una ricerca standard che ricerca qualsiasi cosa che sia stato salvato nel post-content utilizzando una SQL Live, e quindi una ricerca veramente base. Questo vuol dire che qualsiasi può cercare nel vostro post-content la presenza di shortcode e anche di commenti che sono nei blocchi. Quindi banalmente voglio cercare sul vostro sito tutti i post che hanno una gallery con questa query string o tutti i post che contengono una gallery. Non che sia un problema di sicurezza, ma in questo modo comunque io posso in maniera abbastanza semplice vedere quali blocchi state usando, quali informazioni nei JSON dei blocchi avete messo. In genere non ci sono informazioni sensibili, però io non conosco tutti i blocchi, potrebbero anche esserci. In questo caso la prima domanda è ci serve veramente la ricerca nel nostro sito? Visto che è una ricerca abbastanza, diciamo, base, se la risposta è no la disattiviamo oppure se vogliamo impedire di ricercare particolari string eccetera ripuliamo prima che la ricerca venga fatta al database la query string. Quello che in realtà possiamo veramente fare è usare plugin che migliorano la ricerca, quindi indicizzano i nostri contenuti in maniera che vengono effettivamente trovati e non solamente, quindi indicizzano per token, per parole chiave eccetera, tutti i nostri contenuti. Oppure pensare ad utilizzare anche dei database no SQL come Elastic che fa questo di mestiere. A proposito, oggi c'è un workshop che ci parlerà proprio di questo. Se ne è parlato tanto della REST API che comunque è un componente che ormai è diventato core e nella Wordpress e dell'XML RPC che era la precedente versione con cui in maniera molto potente potevamo remotamente controllare o interagire con Wordpress. Bene, nelle installazioni di Wordpress standard la REST API e l'XML RPC sono abilitate per default. in particolare l'API REST anche per utenti che non sono logati. Questo che vuol dire che potenzialmente noi in qualsiasi installazione Wordpress che non abbia preso le dovute precauzioni possiamo chiedere tutta una serie di informazioni gratis, quindi avere la lista di tutti i post così come farebbe un crawler ma senza fare il parsing dell'HTML in formato JSON possiamo avere la lista degli utenti con gli ID e il nome non certo le password o l'username eccetera possiamo prendere informazioni che magari noi crediamo non siano esposte tipo darmi la lista di tutte le pagine che non abbiamo ancora linkato o esposto pubblicamente o avere la lista di tutti i media che abbiamo messo dentro ma che non abbiamo mai usato in qualche post. Banalmente questo è il sito della fondazione di Obama con questa query ho preso tutti gli utenti di Wordpress di Obama ovviamente non ci sono informazioni riservate però ho il nome, cognome, c'ho il dominio probabilmente ho preso anche la mail cosa possiamo fare? Se non ci serve interfaccia interfaccia XMLRPC interfaccia legacy la disabilitiamo quello che in realtà andrebbe fatto per quanto riguarda l'interfaccia REST è far passare solamente le richieste REST agli utenti non logati che vogliamo far passare quindi con questo filtro qui possiamo ad esempio bloccare per utenti non logati tutte le richieste del listing degli utenti ad esempio oppure cambiare l'endpoint per cui se diciamo l'endpoint in genere è vpjson io lo cambio con una stringa che non è vpjson e ovviamente questo rende un po' più difficile individuare l'endpoint per l'API oppure analogamente possiamo cambiare anche l'API XMLRPC l'endpoint questo si fa non tramite un filtro lo facciamo tramite una banale rewrite rule nel nostro HT access per i pigri cioè io ho fatto pubblicizzo il mio plugin vabbè mi serviva fare una cosa del genere che fa tutto quello che vi ho detto in maniera più magari un po' più visuale e mi consente però che mi serviva di selezionare esattamente tutti gli endpoint che io volevo esporre proteggendo invece gli altri non ultimo poiché la REST API non ha un meccanismo di autenticazione se non quello in beta dei cookie proprio in un contributor day della recente WorldCamp USA in un tavolo di lavoro è nato un progetto molto importante che ritengo che si prefigge lo scopo di creare un meccanismo standard per aiutare l'autenticazione in REST poiché di fatto Wordpress non ha l'autenticazione non offre meccanismi di autenticazione REST un'altra piccola cosa in genere Wordpress espone nella propria nelle proprie pagine la propria informazione ci mette dei metacontent ci mette delle versioni eccetera non che sia la protezione in assoluto però a me non piace che guardando la pagina Wordpress uno sappia direttamente qual è la mia versione di Wordpress con questi filtri possiamo rimuovere diciamo questa informazione in più in ogni sito Wordpress io posso fare una scansione più o meno automatica per vedere quali plugin avete installato perché i plugin stanno in genere su una cartella WP content liberamente accessibile e poiché quando installiamo i plugin dall'installer di Wordpress ci copia tutto il file ci mette anche i ritmi quindi io di ogni plugin che avete posso anche vedere che versione avete installata questo non vuol dire che si attiva e con questo potete sempre nell'HT Access impedire almeno di visualizzare questi ritmi non vi parlerò ovviamente della versione Kirk poiché appunto non c'è tempo è una versione che introduce tantissime nuove cose tantissimi miglioramenti in tantissime cose però vorrei raccontarvi di una cosa che è successa a me magari che non è stata opportunamente una delle diciamo dei side effects diciamo nella ultima versione la variabile jQuery era non è più esposta come dollaro ok dollaro sappiamo tutti che è una pratica accedere a jQuery con l'alias dollar è una pratica non ampiamente diciamo scoraggiata sia da WordPress che in generale però c'era da 4, 5, 6 anni c'era perché un componente esterno media element che è diciamo il payer video usato da da WordPress introduceva o esponeva anche diciamo a livello globale jQuery sotto forma di dollaro la pratica corretta è usare una closure e comunque se vogliamo continuare usare dollaro perché magari scriviamo meno lettere questo è uno dei modi per ancora accedere alla variabile dollaro all'interno di uno scope ben preciso però non tutti magari developer gli sviluppatori me compreso avevano fatto caso abbiamo visto dollaro nell'ambiente dell'amministrazione si sapevamo che era una pratica non diciamo sconsigliata però questo c'era e qualche plugino qualche sviluppatore comunque avendolo visto lo potevano usare questa cosa non è stata opportunamente diciamo pubblicizzata e annunciata prima e è stata vista subito dopo quindi nel caso personale avevamo del codice su addirittura sulla piattaforma VIP che si è rotto perché aveva codice legacy ovviamente aveva del codice che accedeva alla vecchia dollaro ed è successo anche in altri adesso non vi sto dire in altre situazioni quindi VIP stessa hanno fatto un revert e hanno reso ancora disponibile perché comunque fanno girare codice quindi sicuramente se avete codice controllato di non usare più nel vostro codice nei vostri plugin la vedete direttamente a dollaro perché sul nuovo Wordpress questo vi darà errore siamo arrivati all'ultimo punto questo badge l'ho fatto io e non mi è venuto benissimo però volevo parlarvi di Fire for the Future non so se lo conoscete è un'iniziativa che è stata lanciata tempo fa ormai nel 2014 è stata un po' era lì era un post di Matt ultimamente è stato rilanciato questi link li trovate anche nel sito org in pratica l'idea è che ogni organizzazione che contribuisca e voglia contribuire a Wordpress debba dedicare il 5% delle loro risorse allo sviluppo di Wordpress sviluppo di plugin community documentazione polyglot insomma i team sono veramente tanti ovviamente è una richiesta abbastanza impegnativa però più che un requisito è un obiettivo ovviamente e quindi le organizzazioni che decideranno di promettere o impegnarsi a supportare Wordpress col 5% delle risorse in realtà fanno una promessa basata su un codice d'onore perché di fatto non c'è nessuna organizzazione nessuna persona che andrà a controllare effettivamente al momento se l'organizzazione effettivamente impegna quelle persone se quelle persone hanno in una settimana dedicato quel tot di ore che hanno detto che faranno per Wordpress è un programma comunque rilanciato ma in stato veramente iniziale però io la ritengo una bellissima idea e vi consiglio comunque di partecipare comunque di propagare questa informazione anche ai vostri responsabili all'interno della vostra azienda come si fa? molto semplice andate sul sito bisogna avere una login Wordpress.org andate sul vostro profilo c'è un tab contributor e lì potete personalmente indicare quante ore decidirete di dedicare settimanalmente a Wordpress e a quali team avete intenzione di contribuire core plugin polyglots e quant'altro a quel punto quando e se la vostra organizzazione azienda vorrà impegnarsi non dovete fare altro che comunicare il vostro nickname username Wordpress all'azienda la quale tramite un'opportuna form che è sempre accessibile dal link file for the future oltre a indicare la propria descrizione il proprio logo eccetera dovrà mettere anche gli username delle proprie persone che hanno che si sono impegnate a sviluppare su Wordpress a questo punto sono felice che la mia azienda ha deciso di aderire a questa iniziativa e quindi vi invito anche voi a riflettere a pensarci io avrei finito le slide sono disponibili penso sul sito ma le metterò anche sul mio cangitab e a questo punto se avete domande sono a disposizione grazie grazie Enrico ci sono domande nel pubblico abbiamo circa 4-5 minuti curiosità opinioni no? te la butto lì perché in realtà lo uso già il plugin che hai sviluppato per bloccare REST API eccetera è disponibile su repository è installabile utilizzabile raccomandiamo insomma anche la la cosa e se puoi un pochino approfondire il discorso per esempio dell'email del gravatar la questione dell'email dal gravatar che questa è una questione anche di sicurezza che effettivamente magari è bene sapere va beh me l'hai ricordato perché ne abbiamo parlato anche ieri tra l'altro sì dal adesso non so se possiamo andare indietro dalla lista degli utenti abbiamo anche il gravatar associato gravatar sappiamo tutti che non è il massimo della sicurezza e comunque sia esiste anche adesso non l'ho messo qui un sito che ha un database di gravatar abbastanza abbastanza denso sempre di gravatar e di associazione scusate email utenti gravatar diciamo dove è possibile mettere il nome utente e vedere insomma il gravatar e avere la mail insomma ovviamente è un problema di sicurezza questo qui quindi c'è la possibilità dal gravatar di risalire alle mail dei gravatar che sono stati tramite questo database ecco quindi effettivamente c'è questo problema non so se era questo quello che ok un'altra veloce altrimenti chiudiamo io ti faccio una domanda sulla questione di offuscamento delle informazioni in particolare ho visto che rimuovevi le versioni esatto questo qui le versioni dagli url di css javascript giusto e questo però non ti crea problemi di caching cioè se poi tu vuoi forzare un refresh della cache del browser hai qualche cosa per aggirarlo o difatti io qui rimuovo la versione solamente se mi accorgo che matcha con la versione di wordpress nulla mi vieta di metterci una versione mia non legata alla versione di wordpress ok per forzare il refresh di css ecco cioè qui di fatto rimuovo solamente la versione se mi accorgo che è esattamente uguale a quella di wordpress la versione di wordpress però al posto di rimuovere l'argomento ver potrei assegnargli un altro valore che non è assolutamente legato alla versione di wordpress in questo modo forzare il refresh della cache ecco